Un progetto che coinvolge una scuola ed un gruppo musicale. Gli studenti dell'Istituto per i Servizi Turistici e Commerciali Gaetano Salvemin di Palermo hanno realizzato un progetto grafico che caratterizzerà la copertina di un CD contenenti canzoni italiane ed internazionali eseguite dal gruppo musicale e i classici. Roberto Musso, docente. Durante la programmazione curriculare abbiamo appunto sviluppato tutta una serie di progetti alla fine della quale abbiamo scelto una soluzione progettuale con un marchio un bel packaging con una forma un po' particolare e con una grafica altrettanto interessante. Laura Marra, studentessa. Ho disegnato degli schizzi di alcune muse, ho tentato di realizzarli in modo più semplice in modo che appunto il marchio risultasse alla fine molto efficace. Laura Palminteri, vicepreside. Poi vedere la realizzazione, la felicità negli occhi dei ragazzi nel realizzare un progetto è quanto più, cioè è quello che ripaga tutti i sacrifici che giornalmente noi facciamo vivendo la scuola in piena attività. Domenico Guzzardo, cantante. È un binomio originale forse per la prima volta eseguito in Sicilia. Io credo che il binomio scuola-musica sia molto importante in quanto la cultura musicale nelle scuole che ad oggi non viene molto rappresentata in questo caso entra e va in scena proprio in un istituto professionale dove la musica in realtà non si studia. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.